sabato 12 novembre trentaduesima settimana del tempo ordinario ricordiamo san margarito flores garcia imitiamo la vita dei santi che siano di esempio a tutti ai laici e ai consacrati germano flores e mercede garcia si erano opposti all'idea che il loro figlio margarito entrasse in seminario solo perché non avevano la possibilità di pagargli la scuola erano infatti ferventi cristiani e non si sarebbero mai permessi di ostacolare una vocazione margarito trova da sebbene fattori di cui ha bisogno per andare in seminario è ordinato sacerdote il 5 aprile 1924 e viene inviato nella parrocchia di chilpancingo vi rimane fino allo scoppio della persecuzione religiosa nel 1926 l'anno successivo riesce a raggiungere la capitale qui esercita clandestinamente il suo sacerdozio ma il suo atteggiamento non passa inosservato e viene imprigionato per oltre un mese rilasciato viene destinato come parroco ad atenango del rio ma appena si mette in viaggio un gruppo di fedeli lo blocca e lo condanna a morte per il semplice motivo di essere un prete come ultimo desiderio chiede il tempo per una breve preghiera uno dei soldati gli sussurra all'orecchio una richiesta di perdono le sue ultime parole sono non solo il mio perdono ma anche la mia benedizione per tutti voi e il 12 novembre 1927 quando una raffica di pallottole lo uccide tutta pulchra es mario tutta pulchra es mario tutta pulchra es mario nel corso di sussurra es mario tutta pulchra es mario tutta pulchra es mario tutta pulchra es mario Tu, onorificenzia, popoli nostri, Tu, Advocata, peccatoru. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con voi, Signore. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Sangiosa, fatto vescovo e martire. Ecco, più che mai vogliamo invocare forte la sua intercessione. Nato in Ucraina, divenne vescovo di Pollocco, dove morì martire, e questa città si trova nell'attuale Bielorussia. Quindi siamo in questa zona, oggi particolarmente calda. Quindi vogliamo invocare la sua intercessione, proprio perché lui che ha cercato sempre di lavorare per l'unità dei cristiani, trovi ancora oggi, ecco, nella preghiera sua, verso il Signore Gesù, il vivente, questa forza per portare pace in mezzo al suo popolo. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amo. Chi ri e lei sono? Chi ri e lei sono? Cristo e lei sono? Chi ri e lei sono? Chi ri e lei sono? Chi ri e lei sono? Preghiamo. Suscita nella tua Chiesa, o Signore, lo Spirito che colmò San Gioso ha fatto e lo spinse a dare la vita per il suo gregge e per sua intercessione fa che anche noi, fortificati dallo stesso Spirito, non esitiamo a donare la vita per i fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dalla terza lettera di San Giovanni Apostolo Carissimo Gaio, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché stranieri. Essi hanno dato testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro il necessario per il viaggio in modo degno di Dio. Per il suo nome, infatti, essi sono partiti senza accettare nulla dai pagani. Noi, perciò, dobbiamo accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Parola di Dio Beato l'uomo che teme il Signore Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre, spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Beato l'uomo che teme il Signore Felice, l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia, egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore Alleluia, 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 All Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai Suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, ne aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva, fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui, li farà forse aspettare a lungo. Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra. Parola del Signore. Nei giorni feriali leggiamo il Vangelo di Luca in quest'ultimo scorcio dell'anno liturgico. Nei giorni festivi quest'anno è l'anno di Luca, per cui ci ritroviamo ad ascoltare alcune pagine del Vangelo, sia di domenica, sia nei giorni feriali. E questo testo che abbiamo letto oggi, ricordate, l'abbiamo letto appena qualche domenica fa. E allora non vogliamo ripetere da capo la spiegazione. Anzi, voglio sottolineare solo quello che, per motivi di tempo, in questa domenica non abbiamo detto. E quindi vorrei proprio soffermarmi sulle ultime parole del Vangelo. Gesù porta l'esempio di quel giudice disonesto, non tanto per dire che è l'esempio di Dio, quanto per dire che Dio farà totalmente diverso da Lui. risponderà, se Lui che è malvagio, ha risposto alle attese, Dio risponderà, non perché non vuole essere scocciato, risponderà per amore ai Suoi figli. Ed ecco che Luca, l'Evangelista, ci dice Dio farà prontamente giustizia. E bisogna che ci fermiamo un attimo a capire che cosa significa questa parola. Dio che fa giustizia. Guardando le vicende della vita, noi vediamo che il male esiste. Anzi, Gesù, nella parabola della zizzania, ci dice che il male coesisterà con il bene fino alla fine dei tempi. quindi questa giustizia di Dio non è sradicare il male e manifestare tutto il bene fin da adesso. Quindi non è questa la giustizia di Dio. Però nello stesso tempo la parola di Dio ci dà una speranza. Il momento in cui il regno di Dio perché dall'altro ieri capite che questo è il contesto della nostra riflessione perché il regno di Dio alla fine si manifesterà in tutto il suo splendore. Quindi è chiaro che nel momento in cui parliamo di giustizia, di Dio, questa giustizia in maniera piena si riluverà alla fine dei tempi. Allora oggi niente perché Gesù parla Dio farà giustizia prontamente quindi sta dicendo quasi un subito certo che c'è anche un subito ma non nel senso che il male non ci sarà più. Quindi questa giustizia di Dio non vuol dire semplicemente che allora non si muore più allora non ci sono più le malattie allora non ci sono più i problemi allora non ci sono più i conflitti non è questo il senso della giustizia di Dio. Il senso della giustizia di Dio è che Dio nel suo amore è presente nella vita degli uomini è presente nelle loro fatiche è presente con la potenza del suo spirito è presente dando incoraggiamento e forza è presente illuminando le menti è presente soprattutto dando senso a tutto fino al punto che San Paolo può dire per chi ama il Signore tutto concorre al bene abbiamo il coraggio di dire una tragedia compresa tutto concorre al bene ecco allora com'è è importante che la nostra fede in questa giustizia di Dio sia grande questa giustizia di Dio che non è semplicemente Dio che mette subito le cose a posto ma Dio che ci accompagna Dio che ci illumina Dio che ci dà il suo spirito Dio che ci dona la sua sapienza ecco allora che è importante per noi vedere i tanti segni dell'azione di Dio oggi e qui l'abbiamo detto tante altre volte ci vuole un cuore contemplativo un occhio penetrante per rendersi conto che Dio ci riesce perché sono tanti gli ambiti dove si ama sinceramente sono tanti gli ambiti dove si serve sinceramente dove ci si spende sinceramente dove si vive nel perdono e nella riappacificazione e lì la giustizia di Dio è presente il regno di Dio è presente ma Gesù conclude con una frase che ci deve far pensare e dice questo qui il figlio dell'uomo quando ritornerà troverà la fede è chiaro questa frase conclude il discorso sulla giustizia di Dio su come la giustizia di Dio agisce e quindi Gesù collega giustizia di Dio alla nostra fede la nostra fede passi il termine obbliga la giustizia di Dio a manifestarsi la nostra mancanza di fede lega le mani a Dio e questo allora dobbiamo comprenderlo perché se non c'è la fede noi non potremo mai vedere l'opera di Dio se non c'è la fede la nostra preghiera non sarà intensa e se la preghiera non è intensa non c'è la supplica non c'è la disponibilità ad ottenere quanto Dio vorrebbe donarci a piene mani ecco perché allora è importante accogliere questo lamento di Gesù ma il figlio quando ritornerà e il Signore non ritornerà solo alla fine oggi ritorna oggi alla porta e bussa troverà la fede questa accoglienza che permette a Dio di agire e quindi di dare un senso a tutto ecco carissimi prendiamo sul serio queste parole di Gesù allora e da dove partire? partire dal vedere come la nostra fede ha bisogno di essere rafforzata chiediamone il loro si parte dal vedere come la nostra preghiera deve essere più intensa perché è fondata su una fede autentica su una disponibilità grande da cui si riparte proprio perché Dio possa manifestare la sua giustizia possa manifestare cioè il bene che ci vuole la volontà di salvezza che ha nei nostri confronti si è rodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!